Era notte fonda quando due giovani alla guida del proprio mezzo, entrambi stavano lavorando, si sono scontrati con incredibile violenza lungo il ponte traslagonare che collega la terraferma veneziana a Chioggia. Un boato che ha squarciato la notte e distrutto in pochi attimi due ragazzi, un cittadino bengalese di 22 anni e un polacco di 26. Il primo era a bordo di un furgone carico di frutta e verdura, l'altro di un tir. Sono rimasti incastrati tra le lamiere dei loro veicoli che nell'impatto si sono accartocciati, inutili tentativi degli uomini del suo in dirianimarli, quando sono stati estratti dalle lamiere erano già morti. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per liberare la carreggiata. La statale Romè è rimasta chiusa per quattro ore, quattro ore per accogliere i frammenti dell'ennesima tragedia della strada che vi stiamo documentando con le stesse foto scattate dai vigili del fuoco.